Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione di Kefren Turam. Cominciamo con la prima domanda dalla nostra piattaforma e passiamo alle altre domande. Grazie. Ciao Kefren. Andrea Besenzoni, Juventus.com Ti chiedo di raccontarci queste prime settimane di lavoro, come sta andando la tua preparazione, come ti stai trovando. Grazie. Buongiorno a tutti. La prima settimana si passa molto bene, lavoro bene con il gruppo, con il mister. Tutto si passa molto molto bene. Ciao, buon pomeriggio. Giovanni Albanese, Sport Italia. Senti, svelacci qualche retroscena su cosa ti ha chiesto il tuo papà, considerato che la Juventus la conosce benissimo, e se hai lanciato la sfida a tuo fratello, considerato che qualche mese fa ha festeggiato lo Scudetto e la Juventus vuole tornare a vincere. La rifaccio. No, ti chiedevo di svelare qualche retroscena su cosa ti ha chiesto il tuo papà, che la Juventus la conosce benissimo, e se hai lanciato la sfida a tuo fratello che qualche mese fa ha festeggiato lo Scudetto e insomma anche la Juventus vuole tornare a vincere. Quale ha risposto in francese? Allora, ovviamente mio papà mi ha detto che è la più grande squadra d'Italia, la più grande del mondo per lui, e quindi mi ha detto assolutamente di approfittare di ogni momento che avrò la fortuna di passare qui in questo club, che comunque non soltanto come giocatori ma anche come staff e come dirigenza è uno dei migliori del mondo e quindi per me sarà un'occasione di apprendimento enorme e anche di crescita, sia come persona che come giocatore. Ovviamente la stagione ancora non è iniziata, vediamo come va per quanto riguarda mio fratello. Ciao Kefrem, Marco Venditti, signore Mia Calcio News, quali sono le tue emozioni dopo che sei arrivato qui alla Juventus o magari raccontaci un attimo quando sapevi che dovevi arrivare qui, cos'è che hai provato? Grazie. Diciamo che per me è stato veramente come un sogno la prima volta che ho parlato col DS e poi anche al mister, veramente era un sogno che si avverava perché fin da quando sono piccolo ho desiderato di giocare alla Juve, dove sono passati moltissimi giocatori francesi e dei nomi veramente di grande prestigio, quindi ancora più sono orgoglioso di poter indossare questa maglia che è una maglia che ha un grande significato, quindi ogni giorno ultimamente mi sveglio e mi sento di avere una grande fortuna. Buongiorno Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport, hai parlato proprio adesso della tradizione francese della Juventus, ti sei aggiunto tu, la Juventus sta aspettando anche, sta trattando un altro francese che ha giocato con te a Nizza, Thodibaut, volevo chiederti quanto ti sta scrivendo Thodibaut per capire com'è la Juve e si ti ha detto che arriverà a breve e quanto sarà importante Thodibaut per la Juve nel caso? Sì, io spero fare bene come gli altri francesi, come Matudy, Pogba, mio papà che ha giocato qui, e per Thodibaut sì abbiamo parlato, però non parliamo della Juve, parliamo di tante altre cose e vogliamo vedere se finisce qui o no. Buon pomeriggio Turam, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Tu hai avuto modo di festeggiare quattro scudetti della Juventus, quello del 2002-2003 in cui eri piccolissimo, e poi quelli del 2005-2006 ovviamente al fianco di papà Lilian. Ti chiedo se almeno una volta in queste settimane hai sognato di poter rivivere da protagonista quei momenti e in maniera ironica ti chiedo se pensi che tuo papà sarebbe più contento di festeggiare con i colori bianconeri addosso invece che come è accaduto lo scorso anno con quelli nerazzurri. Grazie. Sì, ero piccolo quando la Juve ha vinto le quattro scudetti, non mi ricordo tanto, però spero vincere tanti scudetti con questo club. E secondo me mio papà sarà altrettanto felice se io vincerò di quanto è stato felice quando ha vinto mio fratello l'anno scorso. Ovviamente noi ai suoi occhi siamo tutti e due figli e quindi la sua felicità è la stessa. Marco Boviceli, Sky Sport, ben arrivato. Non ha giocato con la maglia della Juve, non ha vinto con la Juve, però Tiago Motta è stato un grande centrocampista. Volevo chiederti se nella scelta di venire alla Juventus, che l'hai già un po' spiegata, era il tuo sogno da bambino e quindi hai deciso di venire qui. Ha pesato anche il fatto di avere un allenatore come Tiago Motta e cosa ti ha colpito di Tiago Motta? Magari in questi anni l'hai seguito, è stato anche al Parigi Germani e il Tiago Motta giocatore. La sua importanza è il fatto che Tiago Motta fosse diventato il mister della Juve e per quanto riguarda la sua carriera come giocatore è stato un giocatore eccezionale, molto intelligente, che sapeva difendere molto bene. e lavorava molto bene col suo gruppo, quindi sono sicuro che potrò soltanto imparare molto da lui. So che se ho delle domande da fare lui è molto aperto da tutte le risposte necessarie, quindi sicuramente sì, ha avuto la sua importanza. Ciao Catherine, benvenuto a Torino, Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Ti chiedevo, uno, quale è il tuo ruolo preferito, cioè dove ti trovi meglio in campo e la seconda, chi era il tuo giocatore, se avevi un idolo quando hai iniziato a giocare a pallone o se non è adesso, chi è? Ti ringrazio. Non ho un ruolo preferito, posso giocare player come giocare mezzala, dipende da dove il mister vuole che gioco. e sì, ho due modelli, il primo è Paul Pogba, sempre Paul Pogba e il secondo è Patrick Vira. Sono due grandi giocatori e mi piacciono molto, moltissimo. Sono Marina Salvetti di Tutto Sport, volevo chiederti, tuo fratello in un'intervista ha detto che tu sei più forte di lui, condividi questo pensiero, sei effettivamente più forte oppure è soltanto la parola di un fratello maggiore? No, no, io dico questo perché mi piace molto. Dice perché mi vuole tanto bene, secondo lui sono più forte ma secondo me è lui più forte però ovviamente io sono molto contenta per lui, ha fatto una lunga carriera, comunque ha giocato in Francia è arrivato all'inizio non da dei grandi club però è arrivato anche alla nazionale quindi per me è davvero un modello, è il migliore della famiglia perché gioca come attaccante che è il ruolo più difficile, secondo me fa molti gol e riesce anche ad essere un assistment perfetto quindi secondo me è lui più forte. Ciao Caffè, Nicola Gallo, Urpo Mediapason, benvenuto e complimenti per l'italiano. Volevo chiederti se hai visto che il tuo idolo è una bandiera della Juventus, se l'hai sentito Paul Pogba e poi nel rapporto con il mister si è già chiesto qualcosa che nessun altro ti aveva mai chiesto allenandoti quali sono le prime indicazioni che ti ha dato Diego Motta? Grazie per l'italiano Per Pogba, non ne ho mai parlato di Pogba soprattutto dei suoi cambi di pettinatura di capelli, oltre che della sua capacità calcistica ma in effetti il mister mi parla davvero tutti i giorni, mi segue da vicino di far giocare la squadra di seguire il gioco, mi ha dato anche dei buoni consigli ovviamente non posso svelarli altrimenti mettiamo troppe carte in tavola e gli avversari poi ne approfitteranno però si vede che è stato un giocatore molto intelligente e continua a essere un mister di grande intelligenza Buongiorno Alberto Mauro, il messaggero di Juventus News24 benvenuto, ti chiedo quali sono le tue migliori caratteristiche dove senti di poter fare la differenza e cosa puoi dare a questa Juve? Grazie Allora diciamo che le mie caratteristiche migliori diciamo così è che io amo molto far girare la palla ma mi piace anche andare avanti, verticalizzare molto e ho delle qualità anche di grande dinamicità e gioco anche molto con palla al piede per quanto riguarda la difesa riesco a recuperare i palloni anche in modo aggressivo quindi secondo me sono un giocatore completo ma ovviamente ho tanta strada da fare ancora Buon pomeriggio, Camillo De Michelis, tutto Juve.com e tutto mercato web volevo chiederti se nel tuo percorso di crescita della carriera c'è anche quello di andare in gol con più continuità sì, non, io vorrei marcare più di buti, ovviamente perché sicuramente lo vedo come asse in progressione però non è la cosa più importante per me sono io che devo creare un ponte tra la difesa e l'attacco e sicuramente sono quello che deve aiutare l'equilibrio e il supporto della squadra recuperando tanti palloni poi chiaramente segnare fa piacere a tutti però sono consapevole che non sia il mio ruolo principale ci sono gli attaccanti per questo Ciao, benvenuto Antonio Paolino, Radio Bianconera ti chiedo se le tue caratteristiche sono adatte alla Serie A che ideai della Serie A, del campionato italiano, del calcio italiano e se qualche curiosità ce la puoi raccontare su chi ti ha dato più consigli Papà Lilian o Didier Deschamps per la nazionale? Grazie Secondo me sì, le mie caratteristiche sono adatte alla Serie A ecco perché ho scelto di venire qui, di venire alla Juve so che è un campionato molto tattico con delle squadre molto di alto livello giocatori di altissimo livello è la prima volta devo dire che cambio campionato quindi dovrò riadattarmi ma sicuramente per quanto riguarda i consigli di Deschamps ne ho fatto tesoro me ne ha dati molti ovviamente mio papà lo sento tutti i giorni tutte le settimane al telefono quindi chiaramente è lui il mio consigliere principale Farioli, il tuo vecchio allenatore ha detto di te che si sentiva responsabile della tua crescita calcistica ti chiedo a che punto ti senti e soprattutto cosa ti ha lasciato l'ultima stagione con lui grazie Sì, Farioli è un mistero importante per me perché mi ha fatto fiducia allora mi ha parlato molto e mi ha aspettato perché ero in una squadra giovane ed ero un leader in questa squadra quindi lui si aspettava molto da me rispetto anche ai miei colleghi e sì, diciamo che mi parlava molto ed è stato, come diceva, una figura importante e anche lo staff mi ha aiutato molto mi spingeva molto quindi sicuramente è stato importante per me Buongiorno Catherine Guglielmo Buccheri e La Stampa mi rilaccio un po' alla domanda del collega nella tua pur giovane carriera comunque al di là di papà c'è molta Juventus sembra quasi un po' che tu eri destinato ad arrivare qua e te lo dico perché correggimi se sbaglio in un'arzo scorso hai debuttato nazionale con De Champ hai avuto Vera al Nizza come allenatore un rapporto con Thierry Henry e quindi ti voglio chiedere appunto questo aspetto se ci pensi c'è se la Juventus tra virgolette era nel tuo destino e se De Champ l'hai citato prima che ti dà consigli ma anche penso appunto a Henry o a Patrick Vera di cui parlavi prima se allo stesso modo hai avuto modo di sentirli se ti hanno mandato un messaggio se hai avuto dialogo con loro grazie Sì, sì, sono d'accordo anche io penso di essere stato destinato a venire qui perché la prima volta che la Juventus si è interessata a me io avevo 17 anni ed ero al Monaco sicuramente volevo aumentare il mio minutaggio e crescere ancora come giocatore prima di arrivare alla Juventus ecco perché sono andato prima a Nizza sì, devo dire che sia Patrick che Thierry mi hanno dato tanti consigli ci sentiamo parliamo molto di calcio ovviamente mi hanno parlato anche della Juventus e quando hanno saputo che io sarei venuto qui mi hanno detto adesso la tua carriera sta prendendo veramente il largo e sono stati ovviamente molto orgogliosi di me molto contenti ma come dico spesso sono molto riconoscente di questi messaggi di questi contatti perché non è dovuto voglio dire lo fanno molto proprio e mi fa molto piacere vi ringraziamo e invito come sempre il nostro managing director football a salire grazie 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 a tutti grazie a tutti